No, 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 no Senza parole Senza parole E non è così Senza parole Sono sempre gli stessi brividi Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino! Andiamo a prenderci a guppa! Andiamo a Berlino! Ti sposti sulla destra perché pensi ci sono gli italiani da quella parte, vado a festeggiare con loro, arrivi sotto gli spalti e cosa accade in quel momento? Eh, ho trovato mia moglie, mia moglie con i miei amici, mia moglie lì Non apprezzo! Forza Italia! Che non doveva essere, doveva essere forse 20 file più in alto e poi il destino ci ha visti di fronte Eccolo l'emozione, è questa! Se già non capivo niente prima, poi è ancora peggio, ecco questo discorso Stavamo molto emozionati, è toccante quel momento Eccolo l'emozione, è questa! Sì, signori, Angelo Peruzzi! Il gioco è il gioco dei Mimi Siamo visti bene Vediamo, vediamo il titolo, vediamo il primo Ok, lo vedete? Non ditelo Non è Materazzi Frankenstein Junior Secondo film Secondo film Ma no, devi mimare, non puoi parlare Devo correre Furia no Angelo No, no! Non sto parlando Furia No, no! Hai fatto un cavallo Tu sei giocata Tanti cavalli Bravo I cavalli? Ma io lo so! Io lo so! Io lo so, ma lo suggerisce a me Ma io lo so! I cavalli parlano Sussurrano Quindi? I cavalli sussurrano Eh certo, bravo Bellissimo film Bellissimo film Bellissimo film Ah, l'uomo che si sudava i cavalli Bravo Che coppia ragazzi Mamma mia Che coppia ragazzi